ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto particolare perché? perché oggi è martedì e perché ritornano come sempre ogni martedì le make up angels quindi un video che riguarda me fabiana elisabetta oggi vi proponiamo un diciamo i nostri must have per quanto riguarda una marca proprio principale in questo periodo che è astra astra sta rispopolando sinceramente mi sta facendo molto molto piacere perché oltre che un brand italiano è un brand diciamo piccolino visto diciamo che non è molto famoso perché non è molto sponsorizzato e tutto però devo dire che piano 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 sta diventando una marca che sto sentendo spesso nominare qui su youtube a me fa molto piacere perché promuoviamo sempre le cose italiane proprio le cose di casa nostra e quindi sono molto contenta di fare questo must have per quanto riguarda questa marca io sinceramente prima avevo utilizzato dei prodotti dei fondotinta ma vi sto parlando di molti anni fa quando diciamo alcuni prodotti io li trovavo sempre alle porte di catania in un negozio di borse invece adesso non c'è più questo cioè non lo rivendono più astra e devo fare per forza degli ordini online ovviamente se avete già visto il video sapete che ho sbagliato anche tonalità di fondotinta quindi poi ovviamente vi metterò il link qui sopra per quanto riguarda il video che ho fatto di acquisti ma veniamo a noi la nostra lizi ci ha proposto di fare questo must have per quanto riguarda astra per farvi vedere i nostri prodotti preferiti allora ovviamente sono personale ovviamente parliamo di noi stesse io vi ho messo tutto in questa scatolina che è proprio la scatolina di astra proprio per farvi vedere che i prodotti diciamo sono i suoi eccetera allora la prima cosa andiamo su per giù per gradazione la prima cosa che vi faccio vedere è posso dire la la mia preferita o ve la lascio all'ultima la mia preferita allora vi parlerò delle due cipre di astra io ho preso sia quella bianca che è la polvere di riso e sia quella un pochettino colorata che è sempre un tono diciamo adatto al mio molto molto chiara allora per quanto riguarda quella leggermente colorata che è la 02 mi piace tantissimo perché la indosso mi piace l'effetto che ha di dare diciamo brillantezza al viso non è una cipria con dei glitter delle cose no però ti dà luminosità scusatemi ti dà un po' di luminosità ed è una cosa che mi piace se vedo tipo un pochettino il colorito spento e tutto devo dire che questa qui è un'ottima cipria e ve la consiglio tantissimo la mia è la 02 considerate che io sono un un tono diciamo neutro e molto chiara non bianca ma molto chiara l'altra cipria che vi consiglio è questa qui bianca che sarebbe la polvere di riso che poi è trasparente perché perché mi piace tanto mi piace tanto io la utilizzo sinceramente sotto l'occhio non la utilizzo su tutto il viso perché preferisco quella che leggermente più colorata e in questo periodo che fa caldo che tutte le persone già sono abbronzate chissà come mai preferisco utilizzare questa qui proprio sotto l'occhio perché mi piace mi piace mi pialla automaticamente la parte che mi interessa e devo dire che il suo lavoro lo fa benissimo la utilizzo con un pennello abbastanza cicciottello lo tampono se diciamo ne metto troppa la tolgo e nemmeno si nota se faccio le foto non si nota assolutamente non fa flashback quindi per me è ottima come cipria sempre per quanto riguarda il viso vi parlerò del blush ovviamente questo makeup che mi vedete l'ho fatto con i prodotti utilizzati di astra non tutti perché non trovate fondotinta altro ovviamente questo video uscirà dopo perché proprio vi volevo farvi vedere che i prodotti io li utilizzo e li ho utilizzato per questo makeup quindi il blush che mi vedete indosso è questo qui di astra ed è lo 04 devo dire che mi piace molto è molto molto pigmentato infatti dovete stare attenti e fu così che un anno dopo Stefania riusci ad aprire il coperchio allora il prodotto scusate ma l'ho utilizzato poco fa il prodotto è questo ovviamente è un malva cosa volevate in più è un malva molto 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 ma molto pigmentato mi piace tantissimo e mi piace tantissimo proprio sulla mia pelle sul mio diciamo colorito perché mi dà quell'effetto sano ma non tipo haidi tipo rossa a fuoco o tipo che cosa ti sei messa sul viso mi piace tantissimo proprio l'effetto che mi fa proprio di guanciotte sane ed è una cosa che mi piace tantissimo poi il colore è quello che io preferisco e quindi per me è ottimo ovviamente utilizzatelo piano piano perché è molto molto pigmentato quindi pazzesco poi andiamo avanti e parliamo di occhi io ovviamente ho solo questa ve la cito perché mi piace come palettina io già ho fatto un full face per quanto riguarda tutto il brand di astra quindi ho fatto un make up total astra che poi ve lo metterò non lo so se questa settimana o la prossima settimana e quindi ho già utilizzato questi questi prodotti però ovviamente volevo fare un altro make up proprio per farvi vedere che mi piacciono i prodotti e l'ho utilizzata ho utilizzato questi due ombretti proprio per fare questo questo make up è un make up semplicissimo tanto per diciamo fare il video perché non devo fare niente non devo andare da nessuna parte cioè vado come sempre da mia mamma anzi io vi ringrazio tantissimo per gli auguri che avete fatto perché mio papà è ritornato a casa infatti se vedete sto sorridendo nel video quindi significa che ce l'abbiamo fatta e a casa non aveva niente di grave però con una caduta che lui ha fatto si è fatto male alla schiena ai reni e poi è stata un susseguirsi di varie cose lui è stato più di dieci giorni in ospedale quindi non potevamo né vederlo né diciamo stare a contatto con lui perché anche se lui aveva il telefonino sapete per fare le videochiamate e tutto lui si era preso veramente di collera era talmente giù che non riusciva nemmeno ad accendere il telefonino quindi l'abbiamo sentito soltanto tramite telefono ed era molto molto triste sinceramente poi ovviamente gli hanno detto che usciva e già lì ha iniziato a ritornare il sorriso e tutto in quei non mi ricordo se sono più di dieci giorni è dimagrito tantissimo è dimagrito 20 chili e oltre che era triste e tutto ovviamente adesso è un pochettino debole deve riprendersi però se mi vedete sorridere e fare video significa che mio papà sta bene quindi sinceramente mi è tornata la voglia perché avete anche capito il mio stato d'animo in quei giorni infatti io ringrazio tantissimo perché mi avete mandato un sacco di messaggi dicendomi perché si vedeva nei video che ero molto molto triste e quindi adesso che lui è a casa sinceramente è tornato il sorriso a tutti e a tutta la famiglia e quindi possiamo ritornare a sorridere diciamo alla vita perché quando una persona sta male anche noi psicologicamente ci abbattiamo tantissimo e quindi è così io ringrazio tantissimo le mie amiche anche le mie amiche youtubiane lo ringraziate già nel video del make up le ringrazio tuttora ringrazio Laura ringrazio Fabiana ringrazio Betty perché mi sono stata vicino tantissimo oltre ovviamente la mia famiglia e le persone che vivono con me quindi sono molto contenta sono molto felice e noi continuiamo a fare i video allora come vi ho detto la palettina mi piace tantissimo mi piace l'effetto che ha da asciutta ma io questi ombretti li ho utilizzati anche da bagnati non vi dico per gli altri perché ovviamente sarà una sorpresa perché dovete vedere il video sennò che ve lo dico a fa' ovvio giusto? sempre per quanto riguarda gli occhi devo dire io ho preso varie matite ma la matita che ho utilizzato nel video quindi ve la faccio vedere anche in questo è questa qui ed è la Astra 24 ore devo dire che ho avuto problemi di struccarla nel senso che avevo fatto il video ma il video l'avevo fatto di mattina nel pomeriggio dovevo andare a farmi la visita agli occhi che sono ancora più mio per prima comunque ha aumentato la miopia e quindi mi sono struccata proprio per andare lì e non avere il trucco sugli occhi e tutto mi sono struccata e proprio la dottoressa mi ha detto signora ha ancora residui di matita e sì gli ho detto ho provato una matita perché dovevo fare una recensione quindi questa matita ho avuto difficoltà nel toglierla e devo dire che era questa qui ovviamente io considerate che mi sono truccata di mattina mi sono struccata verso l'una, l'una e mezza perché alle tre avevo la visita quindi non l'ho tenuta tantissimo oggi la tengo e poi vi farò sapere se mi dura oppure no comunque devo dire che per lo struccaggio ho avuto difficoltà quindi significa che rimane un pochettino più delle altre ma chi lo sa, vediamo poi sempre per quanto riguarda matite io devo dire che mi sono piaciute tantissimo una l'ho utilizzata e una l'ho utilizzata prima e sono queste due matite sono quelle per le labbra e sono Astra Professional Lip Pencil è una matita delle labbra io ho preso la 46 perché l'ho abbinata al rossetto questo qui rosso che è lo 08 Move ed è quello che mi vedete indossare ora e devo dire che mi piace non parlo del rossetto perché è un rossetto semplice abbastanza cremoso però molto scorrevole è tutto ma a me sono piaciute tantissimo le matite l'altra matita che ho presa è la numero 33 vi faccio lo swatch delle matite perché sono ottime ottime veramente mi piace come stesura mi piace come stanno sulle labbra li potete mettere anche senza rossetto e devo dire che sono ottime questa è la 46 e questa è la 33 devo dire che sono ottime come matite mi piacciono mi piacciono proprio come scorrono benissimo sulle labbra ovviamente avendo delle labbra simmetriche ho difficoltà diciamo certe volte a fare l'arco di cupido le discese e tutto invece questa volta anche come scrivenza diciamo sono buone quindi ve li consiglio tantissimo a me stanno piacendo infatti sono le matite che sto utilizzando in questo ultimo periodo anche se non metto rossetti ma metto la matita la tampono con la velina e poi metto la mascherina perché poi a casa di mia mamma io la mascherina la tolgo prendo il caffè e tutto quindi la tolgo e allora di essere adesiva in base alla mascherina no perché io gli ho messo la cipria di sopra e l'ho tamponata con la velina quindi non si è trasferita però ovviamente nella tazza quando ho preso il caffè si è trasferita un pochettino però lì non mi interessa perché non è una cosa che mi interessa tanto penultimo prodotto che vi faccio vedere è il mascara io per adesso ho aperto solo questo qui perché è stato consigliato da Alex una ragazza che ci segue tantissimo anche su Instagram e ovviamente Alex l'ha suggerito a Fabiana Fabiana l'ha suggerita a me e quindi ho voluto prendere questo mascara devo dire che è il mascara che sto utilizzando in quest'ultimo periodo e mi sta piacendo allora il fatto che ha un uno scovolino a forma di cono è molto utile perché ti aiuta a prendere le ciglia quelle più piccole davanti e quelle più lunghe dietro e quindi è molto utile la stessa cosa dall'altro lato e poi la punta essendo abbastanza sottile mi aiuta a districare le ciglia che ho all'inizio che certe volte sono tutte unite e io le districo proprio così muovendo il pennellino e riesco a mettere il mascara benissimo poi è un ottimo scovolino come impugnatura e tutto mi piace il mascara lo vedete è ottimo adesso vi faccio vedere il mio clou del video il mio principe per quanto riguarda questo video perché il prodotto che utilizzo tantissimo e ho preso anche la colorazione sbagliata ma per farvi vedere che a me piace quello che vi sto facendo vedere vi faccio anche io l'ho preso anche di diverse tonalità perché se trucco qualcuno o se devo fare qualcosa a qualcuno preferisco utilizzare degli ottimi prodotti vediamo se riesco a prenderli tutti vabbè vi prendo solo questi sono qui a cercare sto parlando dei correttori di Astra i miei correttori sono questi ne ho altri ovviamente oggi non li indosso perché ho testato un altro prodotto quindi oggi non li indosso però io adoro assolutamente i correttori di Astra ve ne faccio vedere uno proprio per diciamo ve ne faccio vedere uno per nominare tutti gli altri colori io di norma utilizzo il numero 3 che in questo momento non lo vedo qui quindi l'ho messo da qualche parte perché devo fare altri video quindi sarà che l'ho messo da altre parti io utilizzo il numero 3 e devo dire che mi piace tantissimo io lo metto nel primo quarto diciamo dell'occhio perché ho un po' di come si dice oddio non mi viene la parola ho un po' di occhiaie proprio la parte più scura perché io mi si ferma proprio in questo punto qui l'occhiaia e poi è molto più chiara diciamo la parte finale dell'occhio quindi cosa faccio utilizzo nel primo quarto il correttore lo sfumo leggermente e poi utilizzo un altro correttore per illuminare tutta l'altra parte e devo dire che a me sta piacendo tantissimo l'ho utilizzato in vari momenti anche in momenti più particolari nel senso di pianto e tutto non si è tolto assolutamente è rimasto lì dove l'ho messo e devo dire che è un ottimo 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 correttore infatti ho voluto prendere tutti gli altri colori proprio per avere una gamma di colori e per diciamo scoprire qual era il mio colore effettivo perché essendo che non si possono provare i prodotti poi io non lo trovo più a Catania e quindi l'ho dovuto prendere direttamente online quindi ho cercato di prendere alcune colorazioni proprio per arrivare al mio colore effettivo e devo dire che questo è il migliore in assoluto di tutto quello che vi ho fatto vedere questo li batte tutti proprio questo per me è il principe per quanto riguarda Astra ottimo ottimo veramente io adoro assolutamente questo prodotto niente ragazze per quanto riguarda questo video è tutto io ovviamente ringrazio le mie Makeup Angels vi mando un grossissimo bacio e ovviamente dopo che avete visto il mio video dovete assolutamente andare a vedere il video di Elisabetta e di Fabiana perché ovviamente vi ho fatto vedere i miei must have per quanto riguarda Astra dobbiamo scoprire quali sono i loro must have perché sono molto 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 curiosa perché loro ne sanno molto di più di me quindi andiamo subito a scoprire cosa ci hanno proposto le altre due Makeup Angels io vi ringrazio ringrazio a tutti per tutti i commenti che state mettendo ho visto che siamo di più nella community per quanto riguarda YouTube e io vi ringrazio tantissimo non me l'aspettavo ma vi ringrazio tantissimo ovviamente in questi giorni ci sarà un premio che partirà da Instagram per arrivare a YouTube per collegare le due cose ovviamente perché voglio veramente ringraziarvi e non sarà nel primo o nell'ultimo che farò perché ci sarà qualche soffresina in vari video io ritorno a ringraziarvi vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao